L'aprile del 1860 un gruppo di congiurati s'era radunato nel convento della Gangia, da dove con lo spuntar del sole sarebbe dovuto partire il segnale della rivoluzione. Che ore sono? Tu hai l'orologio. Le 5 e 8 minuti. A che ora fa giorno? Il segrestano deve venire da via libera per una spunti di giorni. Lo so. Ma... Sentite, è lui che viene. Il colpetto è circondato. Come? Sì, circondato. Sbirri, i soldati. Sbirtiamoci qui nascosti, potremmo essere sicuri. E gli altri che aspettano il segnale della rivolta, quelle del Ballerò, quelle di San D'Anna. Allora che fare? Usciremo di qui. Voi andate al campanile e suonerete la campana, mentre noi tenteremo un'uscita. La piazza è piccola. Se riusciremo a sopprenti, sbirri e soldati, raggiungeremo le strade. Ingereremo la rivolta. Andiamo. 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 Andiamo a sopprenti. A Paldiera, sbrighiamoci. Voi andate con lui nel campanile e fate presto, mi raccomando. Da questa parte? Su, su, presto. La campanile, la bandiera! Voi andate con lui nel campanile e fate presto.